Upas, puntate al 3 febbraio, Poggi vuole giustizia alla morte di Susanna a tutti i costi. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio rivelano che avrà finalmente inizio il processo a carico di Lello Valsano. A quanto pare però l'assassino di Susanna scorgerà la possibilità di evitare una pesantissima pena invocando l'infermità mentale. Nel frattempo Nico, ancora fortemente provato dalla morte della moglie, valuterà se sia o meno il caso di testimoniare contro l'uomo, rivivendo così quei terribili momenti. Nei prossimi episodi di Upas si tornerà a parlare dell'assassinio di Susanna, Agnese Lorenzini. Le anticipazioni rivelano infatti che avrà inizio il processo a carico di Lello Valsano, Gianluca Pugliese. Nico, Luca Turco, e Viola, Ilenia Lazzarin, si troveranno così a dover riaffrontare quei terribili momenti. Nel frattempo l'avvocato del giovane Bose lavorerà una valida strategia, per evitare al suo assistito una pesante condanna. Lello Valsano si appresterà a seguire, in modo scrupoloso, le indicazioni dell'avvocato Emilio Dell'Ambro, Francesco De Rienzo. Quest'ultimo suggerirà al suo assistito di invocare l'infermità mentale. A detta del legale, seguendo tale percorso, ci sarebbero ottime possibilità di ricevere un forte sconto di pena. Il giovane Bose non si lascerà sfuggire questa possibilità e metterà in piedi un piccolo teatrino. Trascorrendo le sue giornate a letto e mostrandosi agli altri provato ed emaciato. Nel frattempo Nico sarà molto tormentato. Il giovane avvocato Poggi inizierà a valutare se sia il caso o meno di costituirsi parte civile. Del resto una sua testimonianza avrebbe un certo peso, ma farlo significherebbe anche dover rivivere quei terribili momenti. Nico rivelerà tutti i suoi dubbi ad Alberto, Maurizio e Aiello, e quest'ultimo lo spingerà a partecipare. Palladini inizierà un discorso molto accorato sulla giustizia, in cui spiegherà a Poggi quanto sia importante che lui dia il suo contributo. Se Valsano non dovesse avere una condanna esemplare, Nico potrebbe poi pentirsene per tutta la vita. Alberto affermerà che Susanna merita giustizia e la sua determinazione colpirà a Nico al punto da convincerlo a costituirsi parte civile. Il giovane Poggi sarà più determinato che mai a farla pagare all'assassino di sua moglie. Avrà così inizio il processo che vedrà Valsano sul banco degli imputati. Le anticipazioni però si fermano qui e non rivelano quale sarà l'esito del dibattimento.